Chiudiamo il nostro Tg Economia con le pillole di educazione finanziaria a cura di Giussi Biondelli e di Maurizio Poli. Noi ci rivediamo dopo la pubblicità per la seconda parte di Sviluppo e Territorio. Benvenuti a un'altra piccola clip video per quanto riguarda l'educazione finanziaria. Sentiamo spesso parlare di fintech, questa parola così strana per le imprese, sempre rivolto alle imprese. Questa finanza e tecnologia fusi assieme, cioè dal mio PC, cosa posso fare Giussi? Cos'è questa parola fintech per le imprese? Questo smobilizzo dei crediti dal mio PC dell'ufficio? Sì, sono nate delle piattaforme informatiche per aiutare le aziende ad agevolare, a facilitare l'accessione del credito o quello che noi conosciamo normalmente come smobilizzo crediti. Attraverso le piattaforme è possibile accorciare i tempi ed essere più veloci sia nell'accessione del credito che nell'incasso. L'opportunità è data dal fatto che queste piattaforme informatiche agevolano e facilitano l'incontro tra coloro che vogliono cedere il credito, quindi le aziende, e degli investitori che invece vogliono investire in questa tipologia di business. Cosa prevede questa cessione? Prevede comunque un'analisi non tanto di chi cede, quindi dell'azienda, ma l'analisi della solvibilità e della bontà del credito ceduto, quindi di colui e del soggetto che deve pagare. È una piattaforma che è particolarmente interessante perché toglie alcuni vincoli che normalmente noi abbiamo quando cediamo al credito presso il canale tradizionale bancario, ad esempio la segnalazione in centrale rischi, ad esempio una tradizionale istruttoria di accesso al credito, quindi di concessione della linea di portafoglio, e tutta una serie di aspetti prettamente tecnici di queste linee presso il canale tradizionale. Quindi non dobbiamo avere paura della tecnologia, Giuse? No, in questo caso la tecnologia viene in aiuto, viene a supporto e quindi facilita il lavoro alle aziende. Le piattaforme di cessione del credito FinTech aiutano le aziende ad essere più veloci e ad incassare i propri crediti perché possono scegliere tra la tipologia di cessione, prosoluto o prosolvendo. In più, assolutamente, sono costi limitati, non ci sono segnalazioni in centrale rischi ed è veloce anche l'analisi che viene dalla piattaforma. Ecco FinTech a disposizione per le imprenditori del territorio, un altro piccolo strumento a disposizione degli imprenditori per il futuro delle proprie imprese. Alla prossima con sviluppo e territorio! Alla prossima con sviluppo e territorio!